Stai fatto? No Abbastanza No, vabbè Vuoi far colazione? Ah Vuoi farci quella cosa che ti ho promesso? Sì, ti prego Vuoi vedere come la faccio? Poi te la spiego prima? Certo Così ti esegria un po' di... Di aspettativa Di aspettativa, sì Allora, prendiamo Aspetta, però, ma accendi i fornelli che non c'ho l'accendino No, no, no Ma è droga? No Ah Grazie Ehm Prego Il pane questo qua, tipo Toast, però, più grosso Adesso ci facciamo, tipo, due o tre strati In ogni strada ci mettiamo il formaggio Ok? Mhm Una volta fatto questo Facciamo un bel buco al centro Ok Lo avvolgiamo nel bacon E in quel buco ci mettiamo i fagioli e l'uovo Che te ne pare? È leggero Molto leggero È leggero, è colazione, giustamente È la colazione che faresti Da in gover Perché non sapesse cos'è l'ingoglia Perché non sapesse cos'è l'ingoglia Ok